Il 70 kg Alessio Cobra De Neri Eccolo che arriva la musica Alessio è l'unico che ci aveva una musica Allora, all'angolo rosso con Pantano Ceni Rossi Dato a Freiburg in Germania dal Presidente Roma Al peso per il 70 kg Combatte per l'ambasciuccio in Nox in Tim Al suo angolo è Eugenio Agnozzi e Roberto Delia Se incontro è l'attivo per l'attività E' l'attività del 21 lato spostato Alessio Cobra De Neri All'angolo blu Nato a Colato di Mari Un minuto che arriva All'angolo blu nato a Colato di Mari Ma residente a Polizia in forza la Fenix Jing All'angolo blu Nato a Colato di Mari Presidente a Comazza Combatte per il team spagnoli Accompagnato l'attività da Simone Colessandri con Giuro Spagnoli Due incontri per un totale di 50 Rando Xavi Felice Felice Prima ripresa Prima ripresa Prima ripresa Grazie. 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 E la seconda ripresa. Grazie. Giorno milioni. Grazie. Ogni milioni. Grazie. Grazie. Bravo. Bravo. Grazie. Br likeniatura. Ciorno. Grazie. 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 A inizio la terza ripresa. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.